Perettina mia questa volta saremo davvero in difficoltà, dobbiamo giocare di nuovo a nascondino, scendere a parco pacifico, non farci trovare da tutti i player che ci sono, però è all'inizio del taglio come prima città dove scendere ed è decisamente più piccola di Pinacoli Sì, ci è andato bene direi Allora abbiamo pochissimo tempo per pensare a un nascondiglio, ti viene in mente qualcosa? No, per niente Ti prego Sotto qualcosa? Non c'è un passaggio segreto? Sì, solo uno ma ci passano tutti, lo sai Qualche altro intendo Allora, qualche altro passaggio segreto, ragiona Stef Abbiamo ancora circa 20 secondi, non dobbiamo panicare È difficile perché non ha molti posti secondo me dove nascondersi, capisci? Cioè, sono case quindi o vai sotto qualche scala, magari quella potrebbe essere una buona idea Non lo so, le controllano parecchio ormai queste cose Io forse andrei nella casa moderna Ok Tipo dentro il garage Ok, ma lo devi rompere il garage? No, secondo me riusciamo a non romperlo C'è un tipo qua C'è un tipo? Sì Devo trovare un'arma Veloce fare Ho trovato un medikit È una pistola Dov'è il tipo? Non lo so, forse è scappato Ah sì, ragione Però se noi Vieni, 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 vieni Idea geniale Ok Allora, qua spacchi tutto così Ah, hanno già lootato, capito? Aha Tipo spacco anche questi, eh Ok Ok, giusto per fare scena Tu praticamente Mi stai seguendo? Sì, ti sto seguendo Sì, tritamente Buchiamo qua Cadiamo dentro E poi tapiamo Ok Qualcuno dello spazio Mi senti rumori? Sì Siamo fuori zona Quindi sicuramente Si libera in fretta la città Però non siamo troppo lontani Quindi ancora un po' di tempo Oltre al fatto che siamo talmente mal equipaggiati Che quando usciamo da questo posto Dovremmo per forza andare a prenderci qualche arma E quindi dovremmo correre dei rischi da nascosti Che non sono banali Però bisogna mettere che questo nascondiglio è geniale No, bellissimo È bellissimo, eh Allora È stra-geniale Sai cosa mi stupisce? Che cosa? Che non stiamo sentendo sparare Hai ragione Vero Un po' mi ha messo ansia sta roba Ma c'erano diversi team Sì C'è la prima città del taglio È ovvio che più Rispaccano Vicino a noi Vicino a noi Sì Ti prego, eh No, no, no Non c'è nessuno qua Non c'è neanche la ceste Non entrare in casa Ok Io non risento nulla Sembra una città fantasma Stato Molto strano Perché era pieno di gente Non si è sentito un singolo sparo Cioè nessuno ha affaitato Cioè come? Metti ancora più ansia Cioè dove sono finiti? Dove sono? Nascosti pure loro Dove sono? Non ho niente idea Io temo Che siano scesi soltanto Quattro player totali Che si siano lootati Alla loro zone Che se non siano andati E abbiamo soltanto gente Che sta spaccando roba Ma Stef Era la prima città del taglio E poi scusami Anche se scendono Quattro team totali Oltre noi Intendo E che fanno? Non combattono? Cioè lootano e se ne vanno? Ma non ha senso Non ho niente idea Vabbè Vabbè stiamo qui E assicuriamoci poi Che siano tutti andati E ci spostiamo Allora io ti dico Manca un minuto La chiusura della zona Se tra un minuto Quindi quando inizia A chiudere la zona Noi non abbiamo ancora più sentito Nessun tipo di rumore Ciò fa apposta questo qua Ma poi che problemi ha? Non lo so Cioè cosa sta a spaccare La sua faccia? E' più vicino E' più vicino E' più vicino Eccolo Qui sopra Ho un misclicato No maledetto Sei stato tu Dio Dio Fa per spaccare il garage Lo spacca eh Sei pronto? No no Se n'è andato Contando che non sente la chest Lo posso sparare alle spalle No Contando che non sente la chest Non dovrebbe spaccare Cioè io ho dato calma al muro Per sbaglio Non se ne è accorto Come hai fatto? Allora io ho dato qua Ok guarda la mia incontratura Sì lo vedo L'avessi dato così? No ti avrei sparato Steff in testa Comunque Io l'ho visto No skin Ma era ovvio Perché solo uno skin Poteva fare sta roba Andato dritto Per la sua strada E quindi teoricamente Siamo salvi Ma io poi non l'ho sentito Nel raccogliere niente in casa L'ho sentito solo spaccare E fermarsi Ha spaccato intorno a noi E è passato di qui E è corso dritto Avrà avuto le sue ragioni Steff Ovviamente raga Quando dicono skin Uguale nabbo Non sono tutti scarsi Quelli senza skin Ma può capitare Che uno senza skin È scarso Tutto lì Quindi ci si scherza Che poi altrimenti Leggo in chat Ma io non ho la skin E sono forte Lo so C'è gente forte senza skin Ma dai era uno scherzo Era una battuta Non si sa mai fare L'avevo già letto un'altra volta Allora Non lo so Non mi sento molto sicura Ad uscire ancora Sinceramente Però dobbiamo Però dobbiamo Dobbiamo Che dici? Sì dai ormai Andiamo? Sì Vado? Cavolo io mi aspettavo Comunque qualche emozione In più Cioè qualche player Che venisse un po' Di più a rompere le scatole Per lo meno più Nelle vicinanze Ma ognuno qua Non ha fatto nulla Beh Giuro No dai Il no skin Un po' di emozioni Ce le ha date Ok Eh vabbè Ma mi aspettavo Cioè Ma anche perché qua Non ci sono degli alberi Arrasa solo tutto Adesso tu perdi le foglie Quando corri Eh vabbè Carino È un po' fastidioso Steff Te lo dico Grazie È molto gentile Mi arrivano le foglie in faccia Allora Io vorrei provare a luttare al volo qualcosina Perché secondo me La città è stata abbandonata E quindi noi ne possiamo approfittare Per luttare Guarda ce l'hanno con le porte del garage Perché le hanno lasciate tutte insate Sì Non le aprono Ma perché tanto sai che non trovi un gran cast E non senti neanche il rumore della cesta E lì non rompi Esatto Infatti Il trucco è stato quello Di aprire la cesta Per darci vantaggio Sì Allora Ok Ho già trovato un bel fucile a pompa Wow È già qualcosa in più Ovviamente noi saremo nascosti raga Ma poi voglio vincermi il game Quindi trovare un po' di equipaggiamento è importante Ma hanno luttato? No Niente Che hanno fatto in questa città? Non lo so che hanno fatto in questo game Io adesso quando finiremo Mi fado a guardare il replay Per capire che hanno fatto Perché davvero non riesco a dare una spiegazione Cioè mi incuriosisce oltretutto Allora Ok Io ho trovato uno shieldone Quindi ottimo Ma non sto trovando armi La cosa negativa è quella purtroppo Un minuto E la zona è totalmente chiusa Io non voglio perdere il mio cespuglio Quindi non voglio prendere danni Sei tu, sì? Sì Mi è venuto un infarto Sì, sì, sì Quindi dici Io passerei di qua Per vedere se c'è O se è rimasto un po' di loot Ok Anche perché ci sono un po' di funghetti qua di shield Sì, esatto Sì, c'è un tipo Allora Lo dobbiamo killare, vero? Sì Aspetta Ok Io ho tolto 49 shield con un hit Io a uno gli ho fatto un headshot Gioca difensiva E builda tanto Vio, 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 vio Perché non è che posso fare di meglio Dov'è l'altro? Uno è dietro un muretto Ok Credo abbia il cecchino Non lo so L'altro? L'altro non ne ha Lanciano Sì Non ho più materiali Perché non ho fatto intapparare Scappo Io mi metto qui dietro Che ci devo fare? Che ci devo fare? Aia Comunque dovremmo lussare qualcosa Prima di nasconderci Perché non fa così Non ho materiali Non ho niente Ok Uno è cascato? Cosa? Uno è cascato Sì Non ha shield? C'è che stiano soffrendo Contro Mi nascondo Io non ho materiali Lo posso costruire Quindi devo stare attentissima Quello cerca di lasciarti Mi sa Occhio, occhio, occhio Sì A terra Ok Io ho ucciso l'altro Davvero? Ma come hai fatto a non prendermi? Avevi anche l'eye ground E l'ho messa malissimo Bene, ti voglio bene Grazie Lo so Cioè non so come ho fatto Steph Non so come ho fatto Aveva cura qualcosa? Guarda Un pump blue Un pump verde Niente di che Un po' di materiale Per la zona Corri Cavolo, cavolo No, 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 no Non voglio morire di zona Io ho anche un medikit Ma sono messa male Io ho venti di vita Anche perché penso Che parte del loot Si è rimasta sopra Ne si è caduta solo poco Capito? Non è caduto il fucile d'assalto E mi stava sparando Quindi è impossibile Solo che non ho tempo Non hai Hai un po' di mazza almeno Si Non ho avuto tempo Però di andare sopra A vedere Perché ovviamente Con la zona non potevo Oh no Riesci a fare una scala Verso l'alto da qui? Si Vai Sali 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 No Sei una persona orribile Volevo saltare la montagna Per risparmiare tempo Vabbè Dai ce la facciamo Non ti voglio più bene come prima Ma stai zitto Non ti ho capito Mi hai deluso Continua a correre Abbiamo gente intorno ovunque Ovviamente Tu dimmi se dovevamo affettare Io li stavo ittando Oh vedo due col carrello Li stavo ittando tutto il tempo Col revolver Il panico del revolver Bellissimo Ma sono qui sotto Quelli col carrello Lontani Eh se passiamo da qua Secondo me abbiamo più probabilità Di skiparli Ok Quindi facciamo così Allora tu torni full vita Con il medikit Io andrò in giro Con 20 di vita Eh What a good game Te l'ho detto Si è prolungato molto il fight Non ho fatto in tempo Non ho fatto in tempo a lottarli A sto punto Che camperoni Non possiamo più puntare a del loot Non possiamo più puntare a nulla Dobbiamo semplicemente stare ai limiti della zona I più nascosti possibili E sperare che muoiano di infarto gli ultimi Prevalentemente Che muoiano tipo da caduta Magari giocando col Col buttafuori nuovo No perché quello non fa danno Però qualcosa di brutto Gli può capitare Magari un crash È pronto il pranzo Può capitare tanta roba Può capitare E noi siamo qua pronti ad aspettare Che sia pronto il pranzo Loro Non il nostro Perché poi deve arrivare anche il nostro Quindi spero che non ci interrompa Eh beh perdiamo da così Allora 15 vivi Ma perché siamo sempre dall'altra parte È lì E dove ho visto tutta la gente È ovvio che sono lì Perché ci va sempre male Come facciamo Non lo so Senti È certo che sento Ma non ho un'idea di come possiamo fare Il mio cechino È il revolver Ok Abbiamo vinto allora Abbiamo vinto L'altro fighter l'abbiamo vinto così eh 3-4 hit di revolver Non c'è che fare però Steph E beh È terribile sta posizione Ci godiamo il rumore dei cechini Finché non è su di noi Guarda nel ponte è pieno di gente Faitando Questo è vicino E ci sono quelli nel ponte Quelli di fronte Guarda quelli nel ponte Guarda lo vedi quello che sta salendo adesso? Sì certo che lo vedo Mi sa che nel ponte ci sono Tre team diversi come minimo Evitiamo come la peste il ponte Dobbiamo passare per forza di lì O vuoi fare il giro da destra? Facciamo il giro da destra E noi lo iniziamo adesso allora Certo No c'è gente Nascosta di nuovo Dove hai lì quello no skin lì? Aspetta Sì No ferma ferma Non farti vedere Lui non capisce Povero È molto confuso L'hai colpito? Sì due volte Ok Però fa venti a questa distanza Però guarda Guarda anche la costruzione Il one per one lì altissimo Però non so se nessuno l'avrebbero ucciso Eh no stanno costruendo Lo vedi che si sta costruendo Sì guarda Sì però ha buttato un tipo Ah Col jetpack Fermo Forse è l'amico di quello Trenta secondi Ma che fanno? Perché vanno auto zone? Non lo so Perché sta buildando lì? Non lo so Ignoriamo Fere Andiamocene dai Non è gente furba Però al ponte c'è un sacco di gente Eh lo so Che facciamo? Moriamo Perché è solo quello che possiamo fare Ma perché abbiamo gente del genere lì alla destra? Non lo so Cioè che stavano a fare? Non ho costruito lì Non ho idea Ha preso e sceso E si è messo a buildare one per one Con dieci secondi dalla nuova zona Magari poi non è Metti che ha iniziato a giocare oggi E non sa che è la zona Non lo so Che si lancia in quel modo col jetpack Va Vabbè magari è felice che ha provato il jetpack Che ti devo dire? Non lo so Steph È molto strano Noi non potevamo perdere tempo a compensare Anche questi sono auto zone Se ne sono resi conto Invece che continuare a billare Mi sa che dove c'è il punto di ferro C'è qualcuno ancora Eh sì anche secondo me Noi dobbiamo sfiorare la zona costantemente Sì Se noi abbiamo la pazienza La calma E l'audacia di aspettare No stanno ancora costruendola Steph Appunto 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 Che si fa? Si aspetta Ci si muove lentamente Più di quanto lo fanno loro Ma loro sono molto lenti Sì C'è da dire che loro sono molto lenti Far essere così tanto fuori zona Con la zona alle spalle Vieni 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 Altrimenti prendi danno Ok 8 vivi eh Sembravo due scemi Però è divertente L'hai visto? L'ho sentito Vieni Sembravo due scemi Cavolo Vieni Aia Cavolo ma qui si prende danno Uff Sono riuscito a prendere il meno possibile Ok mi sono nascosto Ce li abbiamo sopra Eh ma anche di fronte Ci vedono Steph Ci vedono? E questi qua secondo me ci vedono Li vedi? Aspetta Ok Però sanno che ci siamo Accidenti ste montagne ripide Cioè poi siamo sempre all'opposto Della zona Io già non l'avevo vinta Adesso ne ho sei No non è possibile Siamo all'opposto perfetto Come sempre Ogni volta che ci dobbiamo nascondere ci va malissimo Qua continuano i rumori di cecchino Ma questi perché non fightano con quelli di fronte? Stanno fightando Stanno fightando No mandate Rushate Uccidetevi Io cerco di guardare Così posso sbirciare Eh ok anch'io Guarda No io sbircio da qui Ah ecco lo vedo Sta sparando però Verso dove io sto lasciando libero il mio colpicino mi sa No No? No non vedo nessuno di lì Lì sparano C'è un tipo uno skin sotto Lo posso sparare? Ti prego Dipende Quanto è sotto? Lì Lo vedi? È quello di prima che io itavo È da due ore lì È da due ore Sta facendo l'idea stile noi Lo vedi fermo là Guardalo Guardalo Dai Steph smettila Gli ho dato un headshot Questo qua penserà Ma perché ogni volta che vado in giro mi arrivano? Beh Amico mio Mi stupisce che non ti sparino gli altri francamente Ok questo si sta muovendo Se ne sta andando mi sa che era anche da solo Ok ottimo Anche perché Sparato tanto ma non è morto nessuno Pronta? Sì Più a mano E ora? E ora E ora? Ci sto qua a costruire Ci vado Sto perdendo tempo Sì me ne sono accorta Sì ma fa un rumore assurdo Lo vedi questi qua di fronte a noi? Quali? Qua ce lo sto domandando Sì 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 E come facciamo? Non lo so Siamo in una posizione terribile Siamo sempre una La zona Steph La zona Eh dobbiamo metterci C'è un tipo qua Noo Corri dentro Noo Noo Vabbè c'era l'altro C'era l'altro che comunque mi stava correndo addosso Dato che avevo stai a capire Io l'ho anche ucciso Io sono morto di zona E ovviamente La zona ovviamente faceva malissimo Io l'ho ucciso ma ce n'era un'altra una piattaforma e c'è Ma chi sta guardando? Ma che ne so? Ma che si Siamo arrivati davvero lontano Come sempre Over top 10 Abbiamo anche sparato un sacco di volte Questo qua 15 di shield Perché l'ho letato tre volte Io te lo giuro Te lo giuro Sono l'unica ad averlo letato nel game Speriamo che il video vi sia piaciuto Iscriviti al canale Cliccate la campanellina Se ancora non avete fatto Qua sotto compaiono altri video E ci fermiamo così Ciao ciao Ciao